Senta, avvocato, se io trovassi qualcosa di illecito all'interno dell'azienda... Senza prove non andiamo da nessuna parte. E se io queste prove le trovassi? Eh, ma come fa a trovarle? Non la fanno neanche entrare in ufficio. In un caso come questo, bisognerebbe giocare di sponda. Mirare a destra per colpire a sinistra. Giocare di sponda. Giocare di sponda. Giocare di sponda. Ma dove va? Avvocato, lei è pazzo. Mi scusi? Quei documenti che mi ha dato lì. A manco di soldi, fatture false, fornitori fantasma, scatole cinesi, denaro che sparisce. Ne scommetto che neanche le prove del furto ha. No, effettivamente no. Ma io non ne ho parlato con nessuno. Guardi, le giuro, mi fido solo di lei in azienda. Scusi, eh? Bello. Avvocato, è libero stasera? Sì. Però si levi col sorriso dalle abiti della faccia perché devo dire che mi irrita.